Roberto Toffoli, una nuova delega per trovare risposte alla crisi che sta colpendo il tessuto economico bresciano. Diciamo che in questo momento è l'argomento più importante che si può avere sulla società e che un'amministrazione deve affrontare. Il problema del lavoro e della crisi attuale è un problema gravissimo, è un problema a fronte del quale bisogna mettere insieme tutte le sinergie che ci sono e tutte le forze che esistono in questo momento. Io ringrazio il sindaco per avermi dato innanzitutto questa delega, anche se non so se sia più un onore che un onore perché veramente in questo momento le cose non vanno decisamente per il meglio. Diciamo che però Brescia possa e debba ripartire dal lavoro perché il lavoro è la base di tutto, il lavoro soprattutto è l'unica prospettiva per un futuro e se vogliamo ripartire con un qualcosa di significativo sicuramente dobbiamo farlo attraverso il lavoro. La delega poi mi dà anche la possibilità di avere rapporti con i sindacati e con le associazioni, spero che questo in collaborazione con gli assessori competenti e con il sindaco dia la possibilità a Brescia di trovare nuove energie e soprattutto nuove sinergie con il mondo lavorativo per poter far rinascere Brescia. Diciamo dal disastro della crisi, come fu per buoni dal disastro del dopoguerra, spero che Paroli nell'anno che manca, ma anche e soprattutto speriamo nel successivo mandato, riesca a ridare a Brescia quelle prospettive che Brescia è riuscita a costruirsi negli anni 50. Grazie a tutti.